Ci sono due vecchini che si incontrano. Allora uno gli fa, lo sai sono stato a fare l'esame per l'udito e mi hanno dato questi apparecchini qui, vedi, che con questi apparecchini nelle orecchie si sente benissimo. Ma Remma dice, ne voglio anch'io, quanto costano? Oh, sono alle fatti un quattro, un quattro.